ciao da luci benvenute oggi in questo nuovo video tutorial dove vi farò vedere come iniziare un lavoro quando avete il dubbio su quale sia il multiplo e sul dubbio del quante quindi catenelle avviare vi faccio un esempio molto concreto molte di voi spesso riferendosi alla mia maglia amelie o alla mia maglia biancaneve o altre mie maglie mi dite devo variare la partenza perché il collo mi è stretto e allora io vi devo comunicare il multiplo e non sempre a voi riesce bene questa variazione o perché io ho comunicato male il multiplo o perché forse sono state fatte in maniera erronea le catenelle non c'è nessun problema quale sia diciamo il problema perché ora vi faccio vedere un metodo per non avere necessità né con le mie maglie né con le maglie di nessun altro come non vi sia la necessità per forza di sapere il multiplo e quante catenelle potete avviare ora ve lo faccio vedere quindi facendo riferimento a una maglia top down ma questo metodo di lavorazione può essere usato anche sulle lavorazioni a pannello ve lo faccio vedere per le maglie nello specifico perché è dove mi chiedete di più come come potete variare la taglia allora in questo caso nel caso della della meli io vado ad avviare ecco le mie catenelle e non mi interessa sapere quante catenelle avviare scusate presso la colina invece del ecco quante catenelle avviare perché non ci interessa semplicemente dovrà passare la vostra testa e dovrete fare delle catenelle in più quindi fate la vostra catenella bella lunga in questo modo anzi non vi serve neanche far passare la testa fate proprio una catenella imprecisata molto lunga quindi che sia più lunga di quella che pensiate vi necessiti in questo modo io adesso la farò veramente imprecisata perché non voglio fare una catenella di chissà quale lunghezza in quanto è solo dimostrativa questa questa catenella ecco qua quindi ve lo faccio vedere sulla meli che ha due angoli ma voi potete adottarla per qualsiasi maglia anzi vi sarà molto comoda per altre maglie proprio perché ve le misurate addosso mentre avviate il lavoro mi fermo qua non è necessario andare molto avanti ecco per la mia dimostrazione voi fate una bella catenella lunga mi raccomando perché sennò potreste poi incorrere nel dover disfare rifare un'altra volta e questa dimostrazione questo metodo serve proprio non farvi disfare e iniziare il lavoro 200 volte allora nel caso io adesso userò lo schema della mia amelie quindi per chi lo conosce sa di cosa sto parlando per chi non dovesse conoscerlo non vi preoccupate perché potete tranquillamente adottare questo metodo su qualsiasi schema è solo per usarne uno che molti di voi conoscono normalmente io adesso per la mia ameli dovrei chiudere in cerchio il lavoro non chiuderò in cerchio il lavoro e non farò il giro d'avvio a maglia bassa partirò direttamente con lo schema su catenella libera quindi vado a fare le mie 3 catenelle che saranno la prima maglia alta e le due catenelle di separazione per creare il mio primo punto vi carico il filo salto per l'appunto 3 4 5 e nella sesta vado appunto fare il mio punto vi ecco qua ho fatto il mio primo punto vi faccio la mia catenella sapete che primo punto vi è mezzo metà angolo faccio la mia catenella carico il filo salto le mie due catenelle di base e nella terza inizio a fare il mio modulo da 3 quindi sulla terza sulla quarta e sulla quinta andrò a fare le mie 3 maglie alte 1 2 e 3 maglie alte quindi continuiamo con la nostra catenella continuiamo saltando le due maglie e continuiamo facendo nel terzo nella terza maglia il nostro punto vi separato dalle due catenelle ora io vi sto dicendo dei punti che a voi potrebbero risultare potrebbero non risultare perché potreste usare questo metodo su un altro schema non è necessario ecco appunto avere uno schema impreciso ripeto e ribadisco che sto facendo sulla me lì proprio perché molte di voi la conoscono facciamo che a questo punto io mi sia provata addosso la mia maglia sul collo e decido che questa è la larghezza che io voglio proprio prendo questa avvio del lavoro me l'appoggio sul collo sulle spalle e dico ok me posso fare l'angolo perché sono arrivata alla larghezza che voglio io cosa faccio semplicemente faccio l'angolo quindi ho il mio modulo da 3 faccio la mia catenella salto le mie due maglie vado a fare quindi il mio angolo quindi con la maglia alta le due catenelle di separazione la maglia alta sulla stessa catenella sottostante altre due catenelle di separazione è un'altra maglia nella catenella sottostante ho fatto il mio angolo ora devo semplicemente ripetere il lavoro fatto sulla parte davanti quindi la mia catenella salto le mie maglie vado nella terza con il mio primo blocco da 3 quindi i miei il mio modulo da 3 vado a farlo specularmente sull'altro lato quindi a specchio semplicemente ripetendo quello che ho fatto su questo lato quindi ho fatto il mio primo modulo da 3 ho fatto la mia catenella di separazione vado a saltare le mie maglie vado a fare il mio punto v contiamoli bene se no poi mi viene storta la dimostrazione non è bello allora così vado a fare di nuovo il mio punto v in questo modo scusate c'è la bimba che beve il succo di frutta e rumori strani e lei mi si è svegliata durante il tutorial allora ecco qua vado a fare il mio punto v scusate il mio modulo da 3 in questo modo è il mio secondo modulo da 3 ripetuto a specchio anche dall'altro lato le maglie che mi servivano per l'angolo e cosa vado a fare allora mi fermo un attimo dispo la catenella in questo modo allora io mi trovo più comodo a tagliarla vi dico la verità vado proprio qua entro al centro della catenella e taglio ecco uno dei fili sfido vedete che mi si sfila la catenella vado a sfilare il mio ecco qua il primo occhiellino entro e vado a sfilare tutta la mia catenella ora se il filato è pelosetto tenetevi vicino appunto un una forbicina piccolina fatto questo quindi prendiamo un ago da lana in questo caso io l'ho preso mastrodontico perché questo filato è gigantesco entro e vado ad unire nella prima catenella entro col mio filato e chiudo entro di nuovo dalla parte dove ho già lavorato faccio così e faccio il mio nodino poi andrò a nascondere ovviamente il filo come avrei fatto normalmente se avessi la codina iniziale con la chiusura come al solito quindi vado a fare il mio nodino e io ho il mio lavoro chiuso quindi a questo punto cosa faccio carico la mia maglia entro nella prima catenella faccio la mia maglia alta le due catenelle conto la terza d'inizio e vado a chiudere il mio angolo in questo modo vedete io ho la mia partenza della mia amelie io l'ho fatta minuscolo ovviamente senza neanche sapere quante catenelle ho montato è facile per voi ed è facile anche per me spiegarvelo ovviamente lo stesso metodo lo potete usare per la lavorazione a pannello quindi fate il vostro pannello quando non sapete qual è il multiplo aggiungete delle catenelle quindi fate molte più catenelle di quante voi presumiate ve ne possano servire e poi semplicemente le disfate certo nel lavoro a pannello non dovrete poi unire in cerchio ma come vedete guardate a livello della lavorazione qua non si vede che noi non l'abbiamo chiuso subito perché abbiamo poi infilato il filo in modo da chiudere ad angolo quindi questo metodo di lavorazione io lo trovo molto molto bello ed efficace taglio i fili così ve lo faccio vedere meglio tanto comunque è solo un campioncino è molto molto efficace appunto quando non sapete il multiplo o quando avete l'imbarazzo di non sapere quante catenelle avviare vedete noi abbiamo qui avviato e io sul serio non so quante ne ho avviate di preciso perché ho semplicemente seguito il punto e la misura che mi serviva bene anche oggi io vi saluto vi invito a venirmi a trovare sul gruppo facebook creando con luce franci spero di essere stata esaustiva anche oggi con le mie spiegazioni spero di non essermi impaperata troppo mi dispiace se avete sentito la bimba di sottofondo ma mi si è svegliata proprio durante il tutorial e questi sono gli inconvenienti a volte che capitano io vi mando un grosso bacio un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial ciao ciao da luci a presto ciao ciao